. Albano Carrisi torna a parlare del suo rapporto con la sua ex-muglie, Romina Pover. Lei è la madre dei miei figli. Un rapporto spezzato dalla fine del matrimonio dopo la scomparsa della figlia Ilenia Carrisi. . Tra i due però negli ultimi mesi sembra essere tornato il sereno. Dopo la riunione su un palco i fan, hanno sperato che nella coppia, potesse tornare il sereno anche sul fronte sentimentale. . Ma così finora non è stato. Romina più volte ha sottolineato come di fatto l'amore non è ancora finito. E così il cantante, dai microfoni di Sabato Italiano, ha deciso di rispondere, e di chiarire tutto. Romina è sempre la madre dei miei figli, quindi ha un posto d'onore in casa ha affermato. . 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